... devi passare di qua, devi passare! ... ti devi fermare un attività! ... Sergio! ... ... ma non è giusto eh! ... non è giusto! ... come cazzo fa fare sasso adesso? ... a meno che ti facevo il sasso di qua! ... ti facevo il sasso di qua! ... dai gargamel! ... come ho visto che è andato di là! ... bravo! ... dai gargamel a Giulio! ... hai visto? ... bello! ... ... vai fino a dove c'è la telecamera! ... dove c'è la telecamera! ... qua! ... vai tronchi! ... e due tronchi! ... uno e due! ... 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